Ciao amici e benvenuti a un altro video di Vosho Rockwain, benvenuti a un'altra mia recensione in collaborazione e questa volta sono nuovamente in collaborazione con il negozio Resolution Shop e ringrazio enormemente il proprietario Daniele per avermi prestato questa straordinaria action figure per poterla recensire qui sul mio canale ebbene adesso iniziamo questo nuovo recensione in collaborazione con Resolution Shop bene come avete visto oggi vi recensirò queste due bellissime action figure direttamente dal film Terminator Genisys questo nuovo grande capitolo di questa meravigliosa saga di Terminator e appunto vi recensirò due action figure prodotte da NECA nello specifico vi recensirò esattamente T-800 Guardian che è esattamente la prima versione anziana di T-800 che ci viene mostrata quasi all'inizio del film e vi mostrerò una nuova versione di T-1000, questo nuovo T-1000 con questi tratti orientali che appunto viene sempre mostrato quasi all'inizio del film e quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo la recensione delle confezioni allora come vedete le confezioni si presentano appunto in queste scatoline di cartone con questa finestrella trasparente sul davanti che appunto lascia intravedere il contenuto interno in basso appunto abbiamo il nome del film Terminator Genisys in basso abbiamo il nome del personaggio in questione appunto quindi qui T-800 Guardian e qui T-1000 Polis The Skies lateralmente abbiamo qui abbiamo il logo di importazione Cosmic Group lateralmente abbiamo il logo Terminator Genisys il logo proprio del film di questo Terminator appunto robotico e in basso appunto il nome sempre del personaggio in questione sul retro delle confezioni ci vengono mostrate qui a destra rispettivamente delle info dei personaggi più in basso appunto altri personaggi disponibili qui l'unico personaggio nuovo disponibile è appunto questa versione più anziana di T-800 che viene mostrata appunto per quasi tutto il resto del film che qui viene rappresentata appunto nella testa con la testa intercambiabile appunto più rovinata e più in basso appunto ci vengono mostrate tre immagini delle action figure in questione all'interno della confezione sotto la confezione ci viene mostrato appunto il logo NECA, Real Toys e Skydance Production codice a barre e così via ed ecco fuori dalla loro confezione queste due stupende action figure con tutti i loro accessori diamogli un'occhiata più da vicino ed ecco qui il primo piano di questa stupenda action figure di T-800 appunto impersonato dal mitico e grande Arnold Schwarzenegger guardate com'è molto bello e somigliante devo dire che la somiglianza è così e così ce li ha i tratti di Sly però devo dire che la NECA in passato ha fatto di meglio appunto con la bellissima edizione che c'ho io la versione deluxe presa da Terminator 2 sinceramente è molto più definita e dettagliata qui naturalmente rappresenta una versione un po' più anziana di Arnold Schwarzenegger però diciamo che diciamo che la somiglianza è un pochino inferiore però nell'insieme si vede benissimo si riconoscono benissimo i tratti del grande Arnold e quindi ecco qui appunto il primo piano di questo bellissimo T-800 appunto preso, ricordo, da Terminator Genesys che questo T-800 rappresenta appunto il primo T-800 che ci viene mostrato all'inizio del film appunto Terminator Genesys perché per tutto il resto del film fino alla fine ci viene mostrata una versione molto vecchia e anziana di T-800 qua è in pratica la versione semi-anziana chiamiamola così davvero davvero ben fatto e realizzato comunque anche qui i capelli guardate qui le orecchie devo dire che le rughe si sono impegnate a farle diciamo che ci sono andate vicine comunque alla perfezione ecco qui il retro scendiamo ecco qui il torace l'action figure è sempre realizzata in pvc con l'aggiunta appunto di piccole parti in gomma morbida come appunto il davanti e il retro del suo giubbetto di pelle che rappresenta appunto pelle vediamo anche qui i dettagli guardate come sono fatti bene davvero l'effetto pelle sembra è davvero qualcosa di impressionante guardate i bottoni le cerniere fantastiche ecco qua la braccia ecco qua le mani scendiamo i pantaloni vedete qua le scarpe fatte con cure davvero maniacale sempre grande la neca sempre sempre grande osserviamo un po' il retro del giaccone di questo giubbetto guardate ha il cappuccio della felpa guardate questa cura di dettaglio l'unico accessore che accompagna il nostro T800 è appunto questo suo fucile questo fucile a pompa se non sbaglio viene chiamato anche questo ben dettagliato ben realizzato ed ecco qui invece il primo piano di questo di questa nuova versione di T1000 appunto questo T1000 con queste sembianze orientali che appunto ci viene mostrato in questo in questo nuovo adattamento di Terminator Genesis devo dire che qui invece la somiglianza con l'attore che ci viene mostrato nel film questo attore orientale appunto qui viene rappresentato in una maniera molto molto precisa e somigliante se voi notate il film è proprio è molto somigliante questa action figura all'attore sembra proprio uscita dal film che qui osserviamo il retro capelli sempre ben scolpiti molto bella devo dire questa figure di T1000 di questo nuovo T1000 devo dire che il design da poliziotto affascina sempre vediamo qua la cintura le braccia scendiamo guardate qua le scarpe osserviamo il retro gli accessori che accompagnano questo nuovo T1000 sono appunto questo busto vedete che appunto è un busto alternativo dove appunto ci mostra una testa e un un torace appunto ferito dai colpi di proiettile che appunto vuole appunto ricreare una scena iniziale appunto di Terminator Genesis quando appunto spunta questo nuovo T1000 e viene colpito da alcuni proiettili davvero davvero fantastico qui la parte sull'occhio è qualcosa di straordinario anche qui sul torace davvero fantastico l'assemblaggio di questo mezzo busto non è difficile e come vedete qui ci sono dei piolini all'interno dove appunto la parte normale viene levata semplicemente basta appunto ecco qua spingere ecco qui ed è pronta per inserire ed è pronta per essere inserita la versione alternativa abbiamo questa versione ferita comprende anche una mano mozzata in versione appunto metallo che è stato mozzato comprende appunto questa lancia realizzata naturalmente sempre in pvc anche se l'effetto metallo è molto molto realistico che sembra un enorme ago poi accompagnato da due mani della sua mano destra intercambiabile e infine accompagnato da la sua pistola guardate come ben realizzata ricreata una miniatura stupenda fantastica che si può appunto mettere all'interno della sua fodera oppure la si può far impugnare entrambe entrambe le action figure mostrano le seguenti articolazioni allora abbiamo una rotazione a sfera sulla testa una rotazione sul busto una rotazione sulle braccia che si possono anche allargare una rotazione sui gomiti nonché piegamento una rotazione sulle mani con incluso anche piegamento leggero le gambe hanno anch'essa una rotazione a sfera possono andare molto in avanti e abbastanza bene indietro le ginocchia hanno appunto un piegamento e una rotazione punto di snodo sui piedi è soltanto una leggera rotazione e questa amici era la mia recensione dedicata a queste due bellissime action figure direttamente dal film terminator genesis queste due stupende action figure prodotte dalla grande mitica necca per il 2015 che sono alte più o meno appunto sui 15 centimetri davvero molto ben pesanti e dettagliate quindi amici fatemi sapere che cosa ne pensate di questa mia review con un messaggio scritto con un mi piace al prossimo video come vi dico sempre ma che cosa è